Ciao ragazzi qui è BAST ed oggi siamo tornati qui in un ambiente diverso dal solito che nessuno avrà mai visto perché è impossibile che l'avete visto quest'oggi siamo qui con la sfida della sfida dell'uno vs uno pack opening uno vs uno pack opening la sfida che ho perso dei pacchetti del video precedente allora quest'oggi avremo a disposizione tabasco, come potete ben vedere, due inquadrature, cioè troppo pro poi un limone abbiamo fatto un miscuglio di quello che avete detto voi però mettendo praticamente il pomodoro il peperoncino a posto del pomodoro quindi tabasco meglio così limone a me non mi vedete però sono qua poi due uova ragazzi, due uova una che non è soda e una soda e le mettiamo qua dentro poi lui le gira, io le pesco e me la devo spaccare in fronte come ha detto il carissimo Snake nei commenti e del sale giustamente da per addolcire un po' il limone fate vedere non ci siano incompressione, vedete, sale marino partiamo con questa sfida ragazzi spero che l'audio si senta perché sennò è un casino allora con cosa partiamo? signor chef Vezze cosa ha da... partiamo con un po' di sale sopra il limone lei faccia il suo... le uova le tiriamo via tanto sale sopra il limone un po' di sale poi ci mettiamo anche un po' di tabasco poi inquadriamo eh ragazzi il cazzo cadono le uova se lo devo mangiare se non vuoi poco oh basta, basta adesso vi faccio giustamente vedere qua in questa inquadratura speciale della canon che non zooma ecco così vedete ragazzi questo è il limone che andrò a mangiare con poco peperoncino ovviamente giustamente ci mancherebbe altro e ora partiamo già dall'odore si sente che è una cosa molto rustica, molto buona, no? da... che schifezza ah, già proprio lo senti io poi... non vi ho mai perso trovo questo perché giustamente questo può dare fastidio, no? il... il coso che non è partito io direi di partire senza perdere altro tempo mangiamo la faccio è stupendo lo sputa dalla scorza ecco però la scorza l'ho mangiata non è il limone è l'intesa tra limone e peperoncino il limone per di sé lo maggio anche a me fa schifo ma lo riuscirei cioè ti rendi conto che quello era solo limone e l'ho mangiato con piacere e peperoncino ti dà un pizzichino qua vai cioè l'acido mischiato al peperoncino che proprio ci dà quel tocco stupendo tocco di classe basta l'ho finita basta i detritti ragazzi, i detritti in mezzo alle uova ho le labbra qua che... ho le labbra qua ragazzi che sono tutte rosse e non mi fanno male e quindi basta così ok? basta dai diciamo che è passata la sfida dai ho accettato la sfida e l'ho passata questo mini video si concluderà con le uova ragazzi questa uova quest'uovo non è sodo e questo è sodo allora io adesso non posso ovviamente decifrare come potete vedere non si può decifrare quale è meglio quale no li mettiamo all'interno del... del cosa io li giro così c'è anche la scelta di scegliere un limone lasciate di scegliere un limone già succhiato tappati gli occhi mai vado vabbè anche se vedo adesso non è che cambia niente prendi la casa vado? 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 ed è sodo ed è sodo bruttamente sodo poi puzza e quindi ho vinto almeno la challenge dell'uovo sodo e l'uovo non sodo questo è l'uovo non sodo ragazzi spaccati anche quello puzza lo spacco ragazzi lo spacco dai super lo scoprirete solo nel prossimo video ciao vai eh spaccato solo per voi you can walk with me avete capito? la sfida finisce qui voglio che lasciate tanti like per questa challenge vinta da me praticamente perché ho cercato la sfida e l'ho vinta non è che l'hai vinta hai fatto la peritese nel prossimo 1 vs 1 pack opening in compagnia sempre di Vezze vedremo se riperderai o vincerò io vedremo si spero io vi saluto e vi ringrazio il video di oggi termina qui lasciate tanti like commentate condividete qui da Vezze e basta è tutto bella raga sfida vinta o meglio persa sul campo ma vinta all'esterno la peritese e niente bella a tutti